Presidente, lei è stato investito di un nuovo importante ruolo, quello di commissario ad acta nella sanità molisana, un ruolo che lei già chiedeva, pensava, sperava da diversi anni per il Molise. Beh è un ruolo gravoso, io lo so perfettamente, non lo chiedevo per ambizione personale ma perché in questa maniera posso operare meglio per questa terra, è chiaro che opererò in sinergia con tutti gli attori della sanità molisana, ascolterò tutti, poi alla fine le decisioni dovranno essere prese. L'obiettivo primario è quello del rientro dal disavanzo sanitario, abbiamo bisogno, come ho fatto presente al Presidente Draghi, di risorse straordinarie, le risorse ci sono, se c'è volontà politica e penso che questo sia il momento migliore, possiamo indirizzare queste risorse a questa nostra bellissima regione. Poi un'altra cosa importantissima è il superamento del commissariamento, su questo sia il Ministro delle Finanze che il Ministro della Salute sono stati concordi, hanno fatto un intervento in tal senso in Consiglio dei Ministri, stigmatizzando il fatto che i commissariamenti ormai erano da superare. Io vorrei essere colui il quale traghetterà questi lunghissimi anni, mi pare che siano circa 12 anni di commissariamento di questa regione, verso l'uscita da quello che è un istituto oggi da tutte le parti considerato non più adeguato, addirittura qualcuno dice che è fallimentare e su questo io concordo. Abbiamo bisogno di più risorse, di più professionalità, le ho chieste al Presidente Draghi, oggi mi verrà notificata la delibera di nomina, dopodiché io mi rapporterò con i ministeri affiancanti, il commissario dovrà fare programmazione e dovrà accertarsi che il direttore generale dell'ASREM attui gli obiettivi che gli sono stati assegnati. Qualcosa Presidente si era incrinato negli ultimi anni tra le diverse istituzioni? Io in realtà non ho mai chiuso le porte e non mi hanno mai chiuso le porte, avevo negli ultimi tre anni rappresentato ai governi che si sono avvicendati che il commissariamento esterno non poteva funzionare, in generale avevo rappresentato che il commissariamento non poteva funzionare, ma in particolare quello con soggetti provenienti dall'esterno della struttura regionale. L'esperimento lo hanno fatto, hanno dovuto darmi ragione e venire poi sulle mie posizioni. Sanità pubblica, sanità privata in chiusura, cosa hai in mente? La sanità è solo pubblica, non esiste sanità privata e sanità pubblica. La regia della sanità deve essere pubblica. Abbiamo delle eccellenze di sanità privata che forse il Molise, così come è strutturato, non può permettersele finanziariamente e questo è un altro degli obiettivi che io vorrei raggiungere, quella della compatibilità di strutture pubbliche con strutture private senza compromettere i bilanci pubblici.